Allora che vogliamo fare ragazzi? Volete che continuiamo a sfidare? Ciao a tutti ragazzi sono Shark e benvenuti in questo nuovo video questa è la quarta volta che vi faccio questo video del cavolo perché ogni tre cose è successo una setta mistica di giocatori incalliti con a capo un certo Alex di Sala Giochi 1980 mi ha sfidato e mi ha detto Shark visto che ti porti picchiaduro come se non ci fosse domani prova a portare Waku Waku 7 bene se è questo che vuoi vedrò di portarlo a dopo ragazzi ci vediamo nel gioco ok ragazzi siamo in gioco gioco della Neo Geo o Neo Geo come si dice Sunsoft vediamo un po' mi sembra che ho giocato questo adesso ricordo i ragazzi era in stato di momento palminare in cui andavo intanto qua arrivano messaggi a non finire scusate ah abbiamo messo 3 di piccola guarda spazzatrice ragazzi sto giocando da tastiera la cosa sarà molto più difficile vediamo dove non prenderei oh tutto derato figata guarda non è in aria quella ragazzi ah ho fatto senza sacurlo oh che è che ho fatto le saette potere di nerd vieni a me ragazzi è la prima volta che ci gioco guarda su c'è guarda su c'è guarda su c'è guarda c'è guarda c'è guarda c'è guarda vediamo un attimo testata che ho fatto l'energia asperica è la prima volta che vi cacchio ragazzi se sono tutte così semplici in un vampo no chi se no aveva l'infiofio che praticamente era un'iniezione così che fa e dai chi se no l'infiofio no salpa dentro adesso e smettetevi un'ingann messaggio dentro il registro porca di fila miseria saladra putrida incalorita andiamo ok non 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 faccio nulla fred che Non te lo faccio fare? Oh mio! Dai su! Oh! Ricordo che ero molto odiato dagli altri bambini perché quando giocavo io come minimo mezz'ora era di fila dovevo fare un mezz'ora di fila per poter giocare praticamente ogni 500 lire che era una partita durava da Natale a Natale come? Per non parlare dei torni che organizzavano Dai Arena tirai i torni fin fuori mi ha lanciato Oh! Eh carina e forte Ma nessuno può essere forte quanto un nerd No! Marka C'è male Ma nessuno può essere forte No! 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 Mi ha lanciato il mio spazio eh si fa il po' la rima con l'energia sferica ovviamente questo ragazzi è un video introduttivo non lo farò tutto anche perchè ciò da registrare questa bellezza il primo capitolo no! chi è quello? Ryu! questo fighter che capo di faria? non, non so eh per l'energia sferica lì abbiamo vinto alla grande chi è questo? mauro il coniglietto coniglione che fa rima con qualcos'altro che non posso dire che se non mi buttano fuori ecco il coniglas verde questo doveva essere il coniglio di non è che siamo Bud Spencer eh ragazzi non ci posso domani eh però l'energia sferica non è sempre bene no! e non mi dai il tiro non lo voglio il tiro non lo voglio il tiro ragazzi il gioco non so di evil quindi di internet non so a che riuscirà forse alle 8 perché ci vuole un po' di tempo per lavorarci e mi raccomando continuate a seguire il mio canale commentate iscrivetevi non fate dirlo perché sennò vi banno e che dirvi mentre l'inventa si dispera da ciao a tutti ciao a tutti